Quanti album hai inciso? Quattro. E neanche un successo. Tesoro, devi trovare canzoni che emozionino, altrimenti non arriverai da nessuna parte. Arita, sai anche parlare, vero? O canti e basta? Vorrei che mi chiamasse signora Franklin. Devi fare la guerra quando non riesci a trovare la pace. R.E.S.P.E.C.T. Find out what it means to me. R.E.S.P.E.C.E.C.E.C.E.C.E. R.E.S.P.E.C.E.C.E.